Sono già numerosi gli italiani alla guida di auto con targa straniera che hanno subito sanzioni e il sequestro dell'auto. La nuova norma, che è contenuta nel decreto sicurezza, è chiara, ma in molti ancora non la conoscono. Non è possibile per un italiano guidare un'auto sul territorio italiano con targa straniera. La guida del veicolo non è ammessa nemmeno se l'automobile appartiene ad un familiare stretto, ad esempio un parente che ci viene a trovare e che rende irresistibile la prova del mezzo. La legge non ammette la guida di veicoli con targa straniera anche per gli stranieri che risiedono nel nostro paese da almeno 60 giorni. La multa è salatissima, il sequestro del veicolo è un passaggio obbligato. Se si regolarizza la posizione si ritorna in possesso della macchina, altrimenti si arriva alla confisca.